quindi che succede la seconda verifica che andiamo a fare sulla pianta di prugna camatto 21 di febbraio oggi è di 19 giusto marzo secondo te è piatto per me al 100 per cento la carta ha visto la prossima volta come ti dicono che le commentano mentre sopra la busta di carta e sotto ci mette l'altra è tutto in vegetazione vedi? vedi? non ho capito com'è questa cosa perché questa qua è matura prima questa è matura dopo hai capito la differenza? no vedi se tu guarda le gemme vedi le gemme qua vedi qua questo deve fiorire completamente ma questo l'ho fatto un mese fa no 21 l'ho fatto di febbraio eh questo ancora deve stare la prima quindi non hai detto che dopo 20 giorni la cacciare la carta? no la controllare e basta? solo controllare e basta e poi sto la recontenuare la recontenuare eh ma questo lo usano tutto no? eh eh lo dovrebbero sapere tutto infatti se tu nota la differenza papà la gemma la bozza della gemma perché senti che non sono uguali tutte ah è una prugna diversa che matura dopo hai capito? quando matura dopo per forza è obbligato papà oh e se uno non lo so guarda te eh 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 che strano oh possiamo guardare quello che l'ho fatto l'altra volta aspetta che ora guarda идеale eh sono è eh eh Grazie.